No, ma la switch è l'ultima, non voglio prenderla. Moltres, sì, mi serve per la squadra competitiva. No, ho avviato la remastered! Aspettate un attimo! Ti ho fatto solo per le A senza H. E sai che hai fatto? Solo per le A senza H? Non ho capito. Ma dato che dato si sente? Ho avviato la remastered. Io spero che mi si senta. Sì, sì. Allora, sulla remastered è solo magia, che palle. No, no, guarda. Intanto devo fare NG Plus sulla remastered, però... Devo ancora battere Gorgoyle. Dovete aspettare che mi si avvii e poi io devo chiuderlo e poi riavviare Dark Souls 3. Perché ormai... Riavvia il computer. Ok, subito. Premo dal tasto giusto. Ma poi non ho ancora capito la cosa delle A senza H in realtà. Ma perché il tizio che abbiamo bannato prima scriveva le A senza H? Madonna, sento troppo... Niente gioco, niente intro fighters. Ma ci siamo noi, Pingo. Cosa vuoi? Ci siamo noi il content. No, se sei venuto qua soltanto per evidenziare tipo che non ho una casa... E non fare la sub, soprattutto. E non fare la sub. C'è soltanto perché è il Dino adesso qua. Eh. Punta escalativa o sub. Pingo. Eh. Vero. Che qua dove siamo? In albergo, no? Eh. Punta escalativa o Pingo. Ora. Sono queste... Queste fellonerie. Darsouse? Per favore, Darsouse. Cosa vuole essere bannato che fare prima del bannato? No, che non l'ho prima. Quo, quo. No, no. Oh no, ma con che risoluzione? Dado. Oh mio Dio. Perché? Ma che spettacolo. Aspetta. Ma che? 4k. Ok, a posto. Non ho capito mai cos'era, è larghissimo. Ok, bellissimo. Funziona! Com'è l'audio del gioco? Eh, così diteci perché io non posso vedere l'audio. Non posso vedere l'audio? Punto escalativa. Sì, di solito io lo visualizzo l'audio. Ah, la visualizzazione, cioè tipo, usi gli occhi per... Link da Furion! Link da Furion! Hai fatto occhi! Grazie! Grazie, ragazzi. Mettete un follow ad entrambi. Per favore fai tu dei shout out che io non so scrivere shout out. Grazie. Eh, ragazzi, ma vi siete messi d'accordo prima almeno? Dai, che carini! Grazie! Che bello! Non ti scrivi neanche, aspetta. Grazie a Luke e i suoi tre utenti e a Dafo e i suoi tre utenti e fanno bene sei utenti più due, quindi otto! Yeah! Più due? Ah, più due perché ci sono anche loro! Esatto. Sì, dato sì. No, non pericogliere. No, non pericogliere. No, veramente eravamo d'accordo, ok, ok. Ok, ok. Infatti avete fatto entrambi i rocket. Che carini, grazie per il follow. Grazie a C&D. Grazie a C&D. Grazie a C&D. Eh, sono il gruppo di C&D. I-I-A-C-D. I-I-A-C-D. Come si legge? I-I-A-C-D. Grazie a C&D. Grazie a C&D. Grazie mille. Grazie, grazie. Ciao baby, come state? Come state? Noi per vostra informazione siamo in live tutte le sere 22-23-30. E questa qui è una notturna fuori orario. Questa qui è una notturna che mi tilterà parecchio perché io non riesco a fare una boss fight che in realtà è una puttanata, però io non lo so fare. Quindi adesso mi devo farmare. Grazie becca. Grazie becca! E restare becca. Ah ragazzi, ve lo dico, il primo fa back-sitting lo inculo con la sabbia. Mi raccomando, stasera sono incazzato nero. Please be gentle che io non so giocare a questo gioco. No, infatti poi anche faccio tutto che non so accorto anche ora. Ma perché non ho la spada? Perché non ho la spada? Ah Alice, secondo me perché l'hai buttata? Non è vera una buttata. Non avevo la flamberga, avevo quella che... Eccola. Perché come vedete io ho finito nei miei bracci e forse è il caso che... Che le farmi. Sì. E tra l'altro, allora intanto qua... Sarà una live molto molto noiosa, sappiatelo, perché devo farmare livelli e farmare quei tizi lì che sono molto cattivi. Ma sì, ma i nostri live non sono mai noiosi. Ehm... Mai. Mai. Ah, ma anche Luke stava continuando di essere... No dai ragazzi, sono troppo X di io però. Ah, la vi tolte la trota per parlare con me, sì. Una spada. Hai ragione. Ma quello lì è impazzito? No! Ok. Ah, ma io sono il fatroll, ragazzi! Ecco... Ecco, qual era il problema? No, questa è una cazzata. Oh, cazzo. Via, ciao. No, io sono il fatroll per un qualche motivo, me lo ricordo questa cosa. Ma io non volevo essere il fatroll, no, no, no. Leave me alone. Leave me alone. Provate anger a te, anger a te. Leave me alone. Provate. Adesso con la vostra lusenza sti cazzo del gioco di S3 il contenuto si fa con la fantasia. I tuoi no. Non ho capito, Art. Ehm, no, devo cambiare la cosa dell'equipaggiamento, mi ricordo, perché l'ho finito in fatroll per un qualche motivo. A me, ignoto, questi non li posso mettere. A voi pantaloni di mirra. Sono ancora in fat. Sì. Ma di mirra è il regalo dei re magi? Devo farmare, certo. Cappellino da apicoltore? Sì! Nice. È contenta del cappellino da apicoltore? Siamo qui di nuovo questa cosa di B-movie. Ah perché riesce Spawn Manoh quando sta per morire, finazzo. Ah, ok. Solamente l'impressione che colpi di Spawn su di essere sempre più le frustrate che con i vincchi... che so, i vincchi? I vincchi che davano i nonni... Mi sfugge come termine Vinky? Allora io devo angherare questo Come here bitch Allora questo Questo suona come un abuso Ho dato il mio consenso? No È un android di Dragon Ball Che ti risucchia la forza dalla faccia Sì tipo I vinky sui rami venivano usati a fare cestini Io non lo sapevo Ma il termine è chianino penso Eh niente Mi piace a quanto pare come posizione Ok Sì penso sì Dai era un backstab Gioco Non siamo pure qui Oh credo fosse diretto stretto Ah Oh fuck No Panico No Inizio di fuoco ed è subito Rocket League Rocket League Anche io uno scudo Hai visto? Lui non ha cappellino da piccolo tour Holy shit Ma basta questo globo L'altro è morto vero? Non è morto Da people tour Andiamo da qua Hello Holy shit che sframmata Ci piace la sframmata Allora al prossimo Fino a 6300 All'altro livello Quindi mi faccio l'altro livello Poi mi cazzo Due, tre Che Pillola vera Tra l'altro la loro testa Mi ricordo tantissimo I Cosi di I mostri di CTFO La testa di quelli lì Che sì che esplode 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 Sì C'ha una testa bitorsoluta Come quelli di GTFO Perché sframmata in questo modo? Ce la faremo a fare quell'altro Che sta fissando il vuoto Così Intensamente Quante expo Con un livello 6.000 cose Alice Vuoi provare una cosa Se ti sframma Ce l'hai C'hai attivo L'instant replay Di Infidia Sì Disattivarlo Perché a me mi sframmava Valhalla Con quello lì A più GTFO non lo portate più Eh GTFO dobbiamo Organizzarci bene Perché vogliamo fare una notturna Io, Luca, Pippo e Fabio Che ormai siamo la formazione Di Dream Team Su GTFO Eh Dai, lo rivedrete Lo rivedrete Non manca tipo veramente Uno sputo di Di expo Perché posso andarla a fare Dopo Dream Team Sì, sì Siamo noi Siamo noi Dream Team Ma dai, ma era bellissimo GTFO Poi era una figata di gioco Perché è così underrated Cioè, perché non ha preso Il volo E... Perché, allora Da quello che so Ancora è in early access Davvero? Ancora? Non vorrei dire una cazzola Non vedo E a parte Che è difficilissimo Veramente No, no, sì No, no, sì No, no, sì No, no, sì Imparando un pochino E quindi abbiamo un po' Meno difficoltà di prima Sì, ancora è in early access Davvero? Sì, sì, sì Ed è pieno Il zeppo di roba Ogni update Cambiano tutti i livelli Aggiungono roba Aggiungono zone Monstri No, ancora no Ancora no Ok, adesso posso livellare comunque Fate quando esce la update Ma è uscito da pochissimo L'update di Tartium È uscito il 22 ottobre Il nuovo rundown Che è relativamente poco Per un rundown nuovo Ma che cosa vuol dire rundown? Cioè nel senso Ti mettono un nuovo livello Dove ci sono nuovi Ti mettono una serie di nuovi livelli E quelli vecchi Non li puoi più giocare Cazzo che peccato però Infatti quelli Il primo rundown Noi non lo potremo mai giocare Perché non ci avevamo il gioco Perché non avevate il gioco Stai zitta Zitta ho detto Stidio Che cosa posso aumentare? Potrò andare dei miei access Veramente No, veramente Cos'è che posso aumentare? Allora Ha senso Aumentare la forza La vitalità La tempra Per prendere La destrezza Allora Forza vitalità Destrezza Basse O la forza Però non so se mi basta Tipo Aspetta Vita minute Quanto mi serve Tipo per Stai zitta Che non sia Tra un po' Vero ne piscì Stai zitta Ma è vero No vabbè Continuerò ad usare questa Però questo Vorrei anche Livellarla Allora aspetta Aumento vitalità Ha senso Aumentare la vitalità Sì perché tanto Tutto La destrezza Vabbè non mi interessa Va bene Però questo Aumentati il peso Che sei fatta No adesso Adesso non sono Infatti Non il peso Cioè dovrei aumentare La tempra Ma la tempra È già quella Che ho Di più di tutti Invece dovrei Aumentare Un'altra cosa Vorrei fare però Scusate Non sto finendo Nessuna frase Sì Allora Avevo Vitalità 16 Forza 16 Destrezza 16 E Vediamo se posso Aumentare la Ma porca puttana Non riesco a finire La frase Quindi 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 Ho preferito Evitare Quando lui E allora lei Button text Quindi ho Pensato di evitare Di livellare Di nuovo Tempra Che sarebbe la stamina Che avevo già 17 E quindi Ok Rinforza arma Ma perché non la posso Raffinare Mi serve la titanite scintillante Dovevo prendere i titaniti scintillati Dalle Dalle cosine Vero? Dalle cosine Dalle lucertoline Tra l'altro Oggi ho visto Sai dove ne ho portato il live Demon's Souls PS5 Quanto cazzo è bello da vedere quel gioco Proprio bello da vedere Cazzo È bello da vedere Io Non ho ancora avuto il coraggio Di aprire nessuno stream È proprio Bello graficamente Penso il primo Souls Bello graficamente Ma infatti è una remass No no è un remake Un remake È un remake Ma Cioè il particellare Me lo fanno venire durissimo Ma poi anche L'ambientazione Tutto quanto I modelli Sono fatti di Cristo Le facce sono bellissime Proprio bello Le merita queste 20.000 lire Demon's Souls Eh ragazzi Cioè in realtà Poi non so perché Non l'abbiamo visto Perché tanto non è che Rischi di spoiler O cose simili Per cui Eh guardati qualcosa Quando puoi È proprio bello Aia Questi stanno ancora combattendo Ma stanno combattendo tra di loro Oppure sono solo stupidi Sì 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 Non stanno combattendo tra di loro Ah XD Era solo un simpatico scherzo Cioè non volevo dire Era perché Tra poco è capodanno E quindi succedono cose tipo Ma anche la seconda fase è corretta Dado Cosa? Cosa? Scusate ma soprattutto Quando sono in live Non riesco a ricordarmi Cosa ho detto Due secondi Sono combattendo tra di loro Sono su Ah Ok Non posso farlo Perché Cioè posso Ma no Perché dovrei avere una braccia Per evocare il tizietto Che mi dovrebbe aiutare Perché da solo è molto XD da fare Ma Sto facendo un sacco di rime Per il cazzo Per dire che Sono troppo scarsa Per farlo quindi Quando sei in una zona safe Controllo non ti abbia avviato Nessun download Nessuna applicazione Perché la live va bene Ma io ti sento laggare Su Discord Ma stai scherzando Adesso devi scorrere un ping Di 68 E sai cosa Non ho fatto Tu mi hai giustamente Detto di Disattivare la cosa NVIDIA E non l'ho fatto Ma sai che No niente Lascia stare Sì? Sì a parte quello Ma sono io col ping 222 Per qualche arcano motivo Che cosa è meravigliosa Però non ti stiamo sentendo Laggare Per cui Sti Ma fatti E vabbè Quindi sì Si farma Ragazzi Cioè se volete vedermi Ma perché posso già evocare Ma io sono umana No E sono umana Sono abbracciata Ma perché sto intando In questo modo ragazzi Non è mai giocato di S3 Normalmente Se ti accro in una zona Siamo possibili coerli in furtivo Da quello che sapevo io Solo se correvi Non era possibile Coerli in furtivo Ragazzi ma io sono abbracciata Ma perché nessuno Me l'ha mai detto questa cosa Aial Ok Vedi Adesso lo sai Quindi possiamo provare il boss Se volete Cioè però in realtà Secondo me è kinda hinting Dovrei trovare una tinta Allora cerchiamo Cerchiamo Mentre io Sono in live Invece ho fatto una di quelle cose Che di solito faccio Pensando che nessuno mi guardi Cioè tipo Strofinarmi la faccia Ma vabbè Ma si tranquilla Sai quante volte Lo faccio Ho fatto delle cose Allora è impossibile Allora credo che sia abbastanza impossibile cogliere di furtivo In teoria Prendi sei pure scaccolata Davvero Perfetto Mi è piaciuto Vabbè ma anche quello sai quante volte Ottimo Allora vediamo se lei Me le vende Così almeno posso rinforzare l'arma Perché mi sentirei molto più sicura Ti dice Piano piano li furtivizzi Eh vedi Se non corri Poi Prenderli Eh sì Cioè almeno quello che sapevo io era questo Però quello lì davanti Io lo devo Allora Sono in due Il trucco che mi è stato spiegato È Vabbè potrei per comprare le braci In realtà Non le titaniti Però mi rompe le palle Comprare le braci Allora il trucco è Io non riesco a finire le frasi Ecco quella è il trucco Il trucco è Sono in due I dark cosi Che vanno a combattere contro quegli altri In due Contro quegli altri Ce la fanno benissimo A fare tutto quello che devono fare Sì invece ne lascio andare avanti uno E anche ero subito con l'altro Prima che l'altro vada Contro Le persone Scarse Eh Almeno mi ritrovo Uno lo riesco a gestire Lo riesco a fare L'altro Eh lo trovo tipo a metà vita Comunque Abbastanza Scarso Tra virgolette E quindi riesco Riesco a farlo Il trucco è E quindi riesco Riesco a farlo Per questo adesso Cioè Allora Vedi che loro partono C'è uno che rimane indietro Io devo correre per forza Per Per causarlo Per beccarlo Ma poi ragazzi Ma non entrano i backstab In questo gioco Mai nella vita Per cui Eh Ci piace È un gioco ben fatto Comunque Adesso lui Adesso inizia a correre Nooo Avevo Usato io Tra cui Alice Da tua volta È talmente concentrato Che si complimenta Quello Hai ragione Non è vero Non è vero Non è vero Immagina essere bracciata E poi non esserlo più Non è vero 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 Eccomi con il gatto Trattorino in braccio Ciao Trattorino Ce l'ho anche io Quelle Sì sono Globali Quelle lì C'è anche questa No Questa è terribile Relativamente no Vabbè non sono due glitch con le Quindi appunto Di stasera Cazzo E sei un 1 di vita Ok Meanwhile Ah intanto Mi alzo un attimo E prendo la switch Un secondino Avete presente Quando Io ho detto Che me lo sarei ritrovato Tipo Scarso Credo che Sia full vita Ok No Ok Va bene Ciao Questo comunque Non si era accorto di me Nenche se Cioè Nenche se Li stavo correndo dietro Comunque nel mentre Stiamo facendo Livelli Che è Kinda good E mi piace Kinda good Perché è quello Che dovremmo fare In questa live Sì Pingo Cosa? No Di shopping Ma l'avete ucciso Ma siete carinissimi Adesso io ci trovo Ma scusami Ma Che tanto ho fatto Io non capisco Questo tuo comportamento Hai ragione Kinda Good Ok Benissimo Forse abbiamo un altro livello Forse no Lingua pallida Lingua pallida Dunque è interessante Sì Davvero interessante Scoprire di essere bracciata Dopo Che non vuol dire un cazzo Dici Scusate ragazzi Arrivo solamente per dire una cosa Gli oggetti da covenant Hanno il 3% di drop Dai Dai NPC Dai Dai mob Me ne rivado Per cortesia Non so Ragazzi Mi streamo lo schermo se volete Mi fate tutti i cazzi miei Ma no Non lo sto Sento Marco scusami Allora Facciamo una cosa Quando gioco Pokémon rankato No Ti do La switch in mano Così mi becchi tutti i crit E tutti i drop Va bene Marco scusami Va bene Va bene Luca E Luca Dado È Luca Ora mi chiama anche Luca Dai facciamo un altro livello Per favore Comunque è entrato cattivissimo Marco scusami Mi sono sentita molto in colpa È super cattivo Pensa che c'è chi se ne è dovuto farmare tipo 30 o 60 con i dark right Sapete qual è la cosa super fun Che io non sto assolutamente cercando queste cose Anzi tutt'altro Perché sono tante Anche perché non sai che esistono le termine Ma poi cosa serve Cioè oggetto d'accomanente in che senso Cioè nel senso faccio il vincolo con loro Giusto D'accomanente è la cosa Il patto Ok Il patto Allora Ti vinco Il vocabolario dei sinonimi e contrari Magari ti vengono le parole Sì me lo schiaffo in faccia così faccio Guardate Tu stai cercando le braccia però troppo hanno altri nemici Quelle le dai a Rosaria e lei ti mostra le zinni Hai capito è incredibile Pazzesca questa cosa qui Still sono ancora etero per cui mi spiace Non vi immaginate avere una lingua pallida in tasca E guantarla per sbaglio mentre cerchi di cavi di casa Schifo E sai no Poi fai tutta la roba di quando Quando tocchi qualcosa di bici di schifo E fai le terciughi sulla maglietta Esatto Tipo quando Ahia Stavo rollando Ma pensavo anch'io Ormai Sei eterea Oh cazzo Sono eterea Sì sì sei eterea Ahia Niente ormai Stasera c'è Freddy che si guarda Ci sudi Dai questo era Sì sì era Quello lì No Questa era un backstab Dark Souls Ok E ti in effetti Io come faccio a fare un post del genere Che è tutta backstab Senza che Quando lui Ma poi Quando lui e poi lei Botto un text Era proprio un bignano Posso ripetare amici Sott'è un buon Freddy che ci guarda lassù cantando per Alice Sempre sempre Ah sicuramente Erba lama Prova che una guardiana di farro non ha svolto il suo compito Ok Ah l'avete fiottato Ma che carini No un altro oggetto da Covenant T'han detto Davvero? Amici Amici io non so che cosa dire Sono un imbarazzo Amici Amici E dice Mi diresti se i numeri Da 1 a 90 Se vuoi Li gioco io Se vuoi Ma No no Li gioco io Te la vuoi Fate guardare Stai Scusate Io volevo soltanto farmare Aspetta che vado a prendere quell'altro E non ci credo Amici Allora da queste parti si dice Il pan A chi non ga i denti E chi ga i denti Non ga il pan Potrebbe era fare shiny hunting Sui Pokémon E ne ha 2 nell'inventario comunque Ma infatti mi pareva di averlo già visto quell'oggetto Ragazzi mi chiedo scusa Ah no Anche la tua Dove completare la Covenant e il Drago di DS1 Con il Remastered Uccidendo le Vivernine a blu Ah sicuramente Cazzo Io sono Sicuramente Cazzo Eee Allo Aia Sicuro a mezzi Sì 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 Ma siete sicuri che ha il 3%? Eh sì Non può essere una lingua pallida No ma L'hai ritrovata? Sì l'ho ritrovata un'altra Vinci c'è Ne ho tipo 3000 No allora c'è qualcosa che non va Ne ho 4 e 2 Cioè ragazzi E non sono abbracciata Vi giuro che non stassi usando cheat engine Io adesso vinco C'è sto guardando la Wii Perciò la guardata Marco Comuni non sono Drop raro Understandable Ma ragazzi ma è vero Ma è vero Ma siete sicuri? Cioè Ma secondo me no a questo punto Come si chiama l'inglese? Come si dice pallida Pale Per me se vai da volta ti fai un 50 bracci in mezz'ora 5% Magari c'è uno 0 C'è un 50% E 5% Ok Ragazzi io lascio esco Trovo il tuo bacchino aperto E gioco una schedina Per favore Sì no Prendi tra te vinci Mi raccomando ricordati di dato C'è assolutamente Ecco vedi Era quel 2% in più Una massima Proprio un'inezia E comunque E l'altro invece come si chiamava? L'altro era l'erba L'erba lupo Aspetta Erba lama del sangue di lupo Ma poi se lo uso Che cosa mi fa? Cioè Alicia Eh? 1,68% Quella lì Ne ho due dato 1,68% 1,68% Per quelli che sparano veleno E 0,92% Per quelli con lo scudo Amici io non sono degna Di giocare a questo gioco Io non sono Non sono degna Cioè sono tipo Lo stronzetto Che va Non so L'Hunger Games Eh? Mi spiegate che vuol dire Sei quella che Che va L'Hunger Games E vince per sbaglio Capito? Sì Sì No Faremo un altro giro di farming Poi andremo a prendere delle bracci E vi giuro Un'altra che si trova per terra La seconda no Ma una si Ah ok 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 Un'altra si trova per terra Eh Still L'altra hanno 5% E Bene a 2 No ma No ma bella giornata oggi Nel senso C'è un po' Feschetto Rifacciamo un altro giro di farming qui Tento adesso che ci muoio Cheat No Oh no 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 questo non è buono Vieni qua Girati No No è sbueno No è sbueno No Tengo l'Ignos Tengo l'Ignos Aia Uuuu Almeno il terzo colpo Vorrei darglielo Sì sì Dei eliminare PG Bradbury Oh Questo è un rovex Sì Sì È finito No Ah quello che vinse Sì 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 Ok Sì 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 Ma poi umanità Ma Marco ha visto Quello che è successo Oppure no Dice che ha scritto Aia Poi la vera storia Spiega tutto Ti convincere Meritassi di fincere Sì che era lì Tipo è sbaglio Quasi No È la pressa Sì ma bebe È un'umanità Non ce l'avevo Senso Non avevo umanità Semplicemente Il fatto che era Tipo one shot E io ho fatto La greedy bitch Come al solito Ehi che novità E quindi Domanda Visto che le umanità Non esistono più Cosa ti succano Dal cavo di dark E mi bru... C'è Mi... La braccia No? Io mi son bracciata Divento tutta Incalorita E loro mi tirano via Quella roba lì In teoria Giusto? O nulla Che bello Che bello però Che si meno Altra di loro Sì Comunque non si stanno Decidendo con chi Non so Con nulla Sono la vita Non tutti a noi Non tutti a me Non tutti a me Non tutti a me Così non è corretto Non tutti a me Non tutti a me No No Venite di qua Venite di qua Guardate quante belle persone Cine che ci sono qui Sono le cine Questa cosa andrà a finire Davvero molto male Perché ce l'avete tutti con me? Ma picchiatevi tra di voi? Ok Ma si cura pure Amici No Ho detto di no Spare Basta Questa cosa va rifatta Questo non era nei piani Questo non era scritto nel copione Questo non era negli accordi No Vattene Grazie Porniamo indietro Come hai spiegato tutto bene Alice È giusto No è giusto Non faceva una piega comunque Non ti tolgono nulla se non la vita Ma non è vero Ti toglie Ah no forse no Forse non effettivamente Perché prima ero bracciata Però non si può di essere bracciata Quindi forse il segreto è non sapere Di essere bracciata Ok No Per favore la stamina Ho bisogno di stamina Tre Non volevo gridare per il quarto colpo Che spavento dado che cazzo hai fatto Scusami Scusami Mi sta sbattuta la Corraccia Hai un orso in camera Sì La smetti di sputare schifo per favore Cioè non è carino da parte tua Non si accolgono così gli ospiti Lo sai La smetti di sputare Cazzo Dobbiamo ribellare di nuovo No E va bene dai Dai riusciamo a farci un altro livello Quindi Comunque si sono ingrati tutti strani Perché Che slug Oh Lo so ragazzi Chiamatemi pure petto di merda Ma Sono una piromante In quanto tale Ma Ho fatto benissimo Sti gran cazzi Il gioco te lo permette Oh Queste lingue alla fine servono Allora le covenant sono i patti Sostanzialmente E tu Aumentando l'affiliazione del patto Succedono cose Non so di che tipo Però succedono cose Come scusami Ho ripostato Mi è uscito il ripost Finalmente La prima volta in questo gioco Ragazzi donate per festeggiare Per favore Sì Sì Ok Allora adesso Cosa faremo Io vorrei in realtà fare un altro livello almeno Però Dov'è che si fa Pazzesca per animazione di questo mob E guarda alcuni uomini ricantropi di Bloodborne Ah vabbè L'hanno riciclato Sì come Tipo L'80% delle Delle texture Dei souls like in generale Cioè Sì sì dei souls Sì tutti i souls Della Della from Ah Recicla Quasi Ma qui non ci sono Non ci sono mai andata Cosa c'è qui che non ci sono mai andata Scusatemi C'è qui che non ci sono mai andata Eh sì ma è un gran posto di merda Per questa lucertola Perdonatemi Sì Di base a quelli del patto di danno degli oggetti Di volta che appi l'affiliazione Ragazzi proviamo però Tanto non ho niente da perdere Alla ristragoneria per un'anzia puttanata da completismo Ah di base a quelli del patto di danno degli oggetti Ogni volta che appi l'affiliazione Ok quindi roba inutile Oh immagino andarli in faccia Oh immagino Colpito dai Ahia Il primo gioco vi sarà costato obiettivamente molto Tutti gli altri pazzo abbiano ricevuto Un po' di 200k sul budget grafico Beh alla fine se sono comunque sia giochi Che appartengono a tutti quanti alla stessa accelerazione O quasi È compensibile Anzi non avrebbe senso non farlo Alla stessa accelerazione Allo stesso universo Ok GG comunque Grazie Esempio stupido Ocarina of Time e Majorna's Mask La roba si fa da sempre Ma Ma cazzo Ah ma questo è uno shortcut Porco mondo E tu Non è carino da parte tua No non farlo per favore Don't No 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 È un bacino molto simpatico il tuo Mannaggia Sì Ma quello lì in fondo 11k Anima e grazie Cazzo ok grazie Ok vado a livellare E poi proviamo a fare quel tizio lì Dai Madonna che spavento I fantasmi in questo gioco Troppo veri Troppo veri? Sì I fantasmi degli altri giocatori Sì proprio mi ha fatto Mi ha dato un bacino di quali Vorrei smettire il drop delle lingue 3 drop su 8 kill Ecco Ecco Ah ok Ecco Io avrei letto 5% però Cosa mi manca a tirare su? La destrezza forse ha senso? La tempra? Cosa ha senso a tirare su ragazzi? Guardate le mie stat e please tell me Perché io non so che cosa fare Cioè Più che altro non so che cosa equivale alla stamina E l'equilibrio Cioè vigore e equilibrio tipo? Ha senso che tiri su vigore? Vigore sarà No la tempra sarà la stamina La tempra e la stamina mi sa Il L'equilibrio sarà la destrezza No destrezza è in teoria Per usare le armi Credo Ma perché ho 14 intelligenza? Cioè perché sono una piromante Vigore e il peso trasportabile Con selezza e la tividezza nell'altra pagina Quello che aumenta Giusto? Hai ragione Sono stupida Sono stupida Hai ragione Potrei aumentare il vigore Un pochino Però dico È più worth però Mamentare questa roba qua Capito? Normalizzazione vabbè La tempra Vabbè dai portiamo Un tipo di vigore L'equilibrio non esiste davvero No non esiste ma circa Invece tanto il veroscopio che si gioca portare tutta la nata Guarda Dobbiamo andare da quel tizietto lì E facciamoci Marare male Dai Magari ci troppa 11 capanime Ma dici il boss No il boss No Ok Dovrei comprare le Le braci Quanti sono Ricoglionita Quanti sono Stupida Sfac Ma non dire Queste cose Da pazzo E allora Sono Da pazzo Comunque qua c'è C'è un pizzo Come faresti C'è la Pua Non lo so Che è data La mia salvatura Armi E tipo D'attacchio Ok Ok E' una di quelle cose di game design ultra intuitive Di From Niente si incazza Io passo questa cosa e si incazza Ok Letto Qua Aia Di bacino Non lo voglio più No No Pronto Qua Non Qua Ah Sono fatto Scusami Mi sono divincolata in qualche modo Probabilmente i titaniti No mi sarei titaniti Scintillante Ero per dare su questa Questa Ma qua 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 E dice Vaxerel Esatto Vaxerel Cosa Cosa ho angherato qui Cosa sto sentendo Ah sono i funghetti Prova parata o prova attacco alle spalle Quindi Chi è Fra non fare il pazzaerello tiltato Che devi essere concentrato Devi essere concentrato Devi essere concentrato Quindi questo è un altro di quei nemici Operabili o bexababili E basta vero? Cose che io non so fare Allora intanto vediamo se qui c'è gente No Ma se io tipo facessi una cosa da Big Brain Tipo Che bel tempo che c'è oggi No ma sì Vabbè Meraviglioso No ma silenzio Che c'è l'ora del silenzio Quindi Ah l'ora del silenzio Che è sparito Vabbè Ma cavallino di argento Te li ti Quelli di tarso su uno ragazzi Ok I think yes I think yes Così tanto male Così tanto male Così tanto male Così tanto male Non è vero 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 E ho corso Si è incazzato No Non sono qui Non sono qui Ok Adesso Mi è un headshot Ah vedi che si girò Puttana eva vacca E' caldo E' caldo Allora adesso Adesso mi scendeva e mi porto Per continuare a fare le libri Ma scusami Adesso va tutto meglio perché sono Immiso da 3 yard Ah è quella Però voglio recuperare le mie anime quindi Hello Ci sono i rigiditi di cavalieri di questi anni Ma si sono un po' Io sono senza Samia Di essere con stagna infinita Io volevo periare ma Si si è una maglietta di Linkin Park Molto bella E l'ho presa a Firenze lo sai A Hard Rock di Firenze Ah si me l'avevi detto Ma come ha fatto a passarci con quella croce Non è possibile No è Paresemente la croce Si Infatti l'aveva detto Zapp che ricordava Una certa Se no mi ha scritto prima Hank Una cosa E il CMI Si esatto E il CMI Per fortuna che è stupido Non è vero non lo è Ho fatto tutto questo danno Questa rompia Questa rompia Che stupido è che lo stupido fa Voglio rivedere il forest camp Che bello Se sopra i video si può anche rivedere insieme BNB Perché noi non traggiamo dietro Ma Alice sta sospirando Dicevo Noi non ve l'abbiamo detto Ma Potrebbero arrivare Delle live in watch party Quindi fatevi Amazon Prime Se non ce l'avete Cazzo ma perché io sono rincoglionita Si E fare scambe su Prime Video Quindi quasi Questo era un backstab Gioco Per favore Non voglio morire adesso Secondo me Devo fare la spada Non vuoi Dai Però No Me Me No Adesso lo facciamo Questo è il nostro post Di questa sera Ok Questa è la nuova puntata Di Dark Souls 3 Con Squeezy Cheddar Che non so giocare In Soul Strike Adesso ci fanno Dicevo 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 No Stamina Il trucco è Il trucco è Dicevo Il trucco è Dicevo Dicevo No Non si stacca Finchè non la ammazza Questo mi pareva Adesso Ah Ok Questa non vale Perché parto con una feschetta In meno Però va bene Lo faceremo Cosa stavo dicendo Beh Cazzo Spavento Basta Ma che cazzo fai Smettila Non farlo Non è carino No Il bacino No Ok Che caschette Allora Scusate Ma Sì Sto facendo rumore Dai per fuori di qui Sto facendo rumore Vieni per fuori di qui Corri Corri Sto facendo rumore Sto correndo Vieni qui Voglio prendere Le mie anime Per favore Ma lancia Una piromazzia Eh ma Ok Posso No cazzo Sono in ritardo Devo solo Devo solo avere un po' di pazienza Farò una cosa per volta Ahia Puttana Puttana Ok Ok Dai lo stavina Guadrima Paterina Ah Questa non mi piace Merda Ciao Pingu, buonanotte Ciao Pingu, buonanotte GG Niente un drop Niente un drop Non ti lamenta GG Grazie Lame del mercenario, un'altra allarma Un muro di nebbia più avanti che poi si tratti di elusione Questa è una puttanata mediocre Si è Boh Ho disapprovato questo messaggio Adesso Ho disapprovato e quindi Ok Chi l'ha scritto verrà bannato per sempre Esatto Carboni di farron Che cosa posso fare con i carboni prova chiave Ma tu, tu sei un Accendi un fuoco di farron Non lo so, io devo ancora capire La funzionalità di Tizio in esattamente questo modo Perché Voi mi baitate amici Quando io vi chiedo tipo ad esempio Come funzionano le braccia Voi mi dite Sono come l'umanità Però poi non funzionano come l'umanità Quindi mi ritrovo tipo in mezzo ad una boss fight a cercare di curarmi con le braccia Invece non mi cura Quindi sì Forse posso fare un altro livello Ah lo darei ad Andrea Lo darei ad Andrea Ah lo darei ad Andrea Ok Ciao Pingu Ti auto respawn Sì immagino che respawni Se non mi dà Allora andiamo a livellare Sentite Come sono già mezzanotte e diciotto Che è già un'oretta Andiamo a livellare Compro le bracci Proviamo il boss Sì Dai Una volta va provato almeno Mi sento davvero molto poco carica E molto molto scarsa Ma è per questo che ci riuscirai Sì Molto bene Molto bene Sì Sono fiducioso in questa cosa Non giudicatemi Ho speso questa cosa per la stamina Perché Voglio rollare fino alla fine dei dieti Mi dissocio ovviamente Rollare nel senso di Nel senso Sì No nel senso Posso aumentare Ma quali carboni devo dare? Cioè io lo devo dare Allora scusate un attimo Perché io prima di fidarmi di voi Cioè non perché non mi fidi Ma perché voglio capire Anche quello che sto facendo No perché voglio capire Quello che sto facendo Allora I carboni Ma giustamente Permetti infusione pesante Filiate velenata Permetti a Fabio Santori Utilizzare le gemme Per infonderarmi pesanti Ma quindi io Ah ok Per infonderarmi i cristallini Benedetta mi sia Però scusate Io Cioè glielo do E poi li devo dire Che cosa infondere Giusto? No penso di sblocchi La possibilità di infondere Quella roba lì Ah ok Siano oggetti One shot questi qua Perfetto 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 Vedere la vista del faro Mi sembra che non era Poterlo usare Ah ok 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 E ti do tutto Quello che vuoi Andre Davvero Tutto La mia casa I miei figli Vai È tuo Sì caro I carboni Dice Marco Grazie I carboni Pazzesco Bene Posso rinforzare I carboni Però ragazzi Potrei poter La Flamberga Più due Ha senso Che usi ancora Quell'arma lì Piuttosto che La Flamberga Più due Ma usa Quello che ti trovi meglio Ad esempio Eh ma è Pesante Allora ragazzi Ma che ti frega Andrino caro Con quei manoni Grossi Che hai Perché non vai in giro A piatti Da solo Il carbonetizzo Ma perché è una persona Buona Lui non farebbe mai Del male a nessuno Capisci A parte a quel Pezzo di ferro Allora Lì sta proprio sul cazzo Sta proprio sul cazzo Eh vabbè I frammenti detenitene Abbastanza Lo facciamo così Rinforzo la Flamberga Poi Compro le bracci Mi basta Sì stai zitta Stai zitta Oh no Perché la gente parla E ride Fra di male Nessuno prova a colpirlo Idile di no No Quel pezzo di ferro Ma deve essere punito Provedere il set Mercenario Magari ti rende Abbastanza geloso Della Flamberga Senza essere infatta Hai ragione Che sono infatta Con la Flamberga Quindi sostanzialmente L'ho portata Più due Per il cazzo Eh no Ma prova a fare Quello che ti ha detto Arti Adesso lo faccio Prima Prima acquisto Holy shit Seriously Basta zitta Va bene Ok Allora Proviamo a fare così Allora Cavaliere di Lotrik Io ho trovato Vabbè Ah eccolo qua No ma è peggio No ma è peggio Cioè sì ma è peggio Nel senso Cosa gli ha fatto Eh sì però magari Più leggero appunto Poi Cioè per forza è peggio Se non sarebbe più leggero Sì 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 Vabbè proviamo Questo E equipaggiamo La Flamberga Oh nice Non sono infatti Dai Sono stupida No se zitta Sì zitta Sì zitta Devo accusare Merina Non vuole solo un po' Di cammini Di compagnia Fa fastidio Però armatura oscura Armatura oscura Armatura oscura Ma non è la cura che ho su prima Ma è ancora È ancora peggio questa Sì no è troppo Cioè È troppo leggera Armatura oscura No nel senso È Tanto il mid Lo raggiunge anche con l'altra Tanto vale mettere quella mercenaria Che è meglio Ma perché se ne prendo due Costa 2500 Se ne prendo tre Costa 2500 Signora Perché Praticamente l'allora di questa qui È che ha messo A gestire il negozio Ha messo a gestire il negozio La figlia Ora perché lei Non c'è più tanto con la testa Ah quella lì sì Mamma mia L'ha messo in mente Sì sì Ha messo a gestire La sua figliola Solo che è discalculica La sua figliola E E E E E quindi ogni tanto Fanno un po' di confusione Con queste promozioni Sai no Vuole fare il Black Friday Ne prendi due Paghi tre Però Ha fatto così appunto Capisco perfettamente Paghi due È tutto Questa che è la loro ufficiale Quelle sono le quantità Che le rimangono Te ne vende comunque Una alla volta Per 2500 A 500 anni Mi abbraccia Ica io volevo divertirmi Però Ah Quindi io non è che posso andare in giro A fare la stronza Così Bene Se c'è prima o poi Lei le finisce Quanto è intensa perciò Immagina essere bloccati Ad uno dei boss Facili A quanto pare Perché si picchiano Ma Penso sia abbastanza Soggettiva anche la cosa Quindi Cazzo Se ne fredda Se ne fredda Sì le ne vende No in tutte Ne ho già comprate 5 Sì 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 Io non so contare letteralmente No ragazzi Ok no Troppo lenta Sì Sono Troppo Primo souls No secondo In realtà Sono ancora viva Come? Sì Ma comunque E questo qui lo sta facendo in blind Ha rarocato il primo Mi raccomando da blind Niente spoiler Niente backseating E non ho bisogno di evocazioni Ce lo voglio fare da sola Terzo Vaffanculo Terzo E no Comunque niente flamberga Teniamo questo qua Perché Cioè Forse in realtà È semplicemente una questione di abitudine Però E allora Aspetta che mi rimetto la L'armatura Del cavaliere Sì E ciò che mi metto anche il resto L'armatura Eh non posso fare più di così Sì L'ho fatta L'ho fatta Dove trovare titaniti scintillanti? Come che si fanno le titaniti scintillanti? Cioè a parte tornando le ricertoline Che ovviamente non trovo più Perché Luca mi ha detto Non ti preoccupare Respondono E invece non respondono Io l'avevo rollato Basta no No adesso Finché non si fanno le cose come voglio io Non le faremo Basta Mi fa schiantare il cappellino Troppo colto È troppo bello È bellissimo Cioè fosse per me Starei sempre con le cose di Cavaliere di Mirra Ma rispondono solo le ammazzi Luca si è dimenticato quel dettaglio Ma no Eh no Infatti C'è una l'ho missata Perché ho la flamberga Che ovviamente Quando tu corri contro un nemico Al moveset Che ti fa Ti fa tipo il Sì E quindi Sì sì no Quella faccia di no Questo Chiaro Perché ovviamente non va A fare così Cioè fa questo E quindi non facendo così Ovviamente la lucertolina è per terra E quindi Sua sorella Resporo Ecco Sono molto contenta Ragazzi Ok Questa è stata una cattivissima idea Forse non avrei dovuto farlo La live può finire qui No vabbè Un tentativo Come non andavi dal boss Sì Sto morendo prima di andare dal boss Capisci Cioè nel senso Sto morendo nella strada Per fare quel boss Boia Dai povera Alicia Cos'ho detto Cosa 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 C'ho fatto Senti Lasciamoli ammazzare tra loro Ok Non è vero Intimico Ma va Esatto No no Sneaky Sneaky Non tossire Ma in realtà Ma in realtà Ma in realtà ci sta che io Arrivi Almeno neanche di uno Se no Contribuisco così Ragazzi Grazie al follo Grazie al follo 100 days gone by 100 days gone by Grazie mille Benvenuto benvenuto Allora abbiamo fatto fino adesso Lo faremo di nuovo Fino a che Non vi uscirà Non vi uscirà proprio dalle orecchie Dal naso E dalle cose Capito E finchè Non vi esploderanno a me Le iridi Non va fatto così E non lo farò Nel modo in cui Non va fatto Alice hai delle pietre prismatiche In inventario Sì Perché? Ma non è vero Che da sole muoiono I due Dark Dark non è vero? E se vuoi Adesso le lo lasciamo Però non è vero Guarda Buona fortuna Fa cof Può scambere uno Però non ti tenete Scintillante Bella quella fiaschetta Lasciami stare Adesso Di nuovo Siederò questo Fucking Palo di merda E adesso lo ripetiamo E finiamo Fin in fondo Basta Anche se dovessi entrare Nella nebbia Con una fiaschetta Ok? Lo faccio Dai Ok Da me sono sempre Morti entrambi Io troppo le lingue pallide Come se fossero Non so Sì Che in realtà Era uno su hot Popcorn Però A me loro Non si uccidono Da soli Guarda Mi stiamo tutti A guardare Non sta accadendo Marco Anzi Sono tutti Due metà vita Capisci Adesso me ne vado A dangarare Uno Ok Putta neve Ya No GG Poia Morto Non è morto Capisci Cioè Ne se sono lasciato Addirittura da solo Contro due Non muore Non muore Non muore Non muore Non muore Non muore Non ho capito bene L'ultimo passaggio Eh Non muore Non muore Ok Sto in rimasto No scusa Ero disattento Aia Alleluia Alleluia Una fischetta Mi mancava Mi mancava L'ultimo colpo No E vabbè Vabbè Va bene così Ok Quindi partiamo Con due fischette Lancia dei guru Va bene Partiamo con due fischette In meno E Va bene così Ma sì Come si chiama Gotthard Scusa Gotthard La mano nera Sei pronto Sei pronto Sei pronto Io Io penso che Sì Perché mi fanno un 2-3 stella Tutti gli NPC che evoco Sempre Guarda Perché sanno cosa fanno Gli altri NPC Non so più parlare Io stasera Ti vedo eh Ti sei mosso Hai perso Ehi Ehi Va bene Non smetti di cazzeggiare Ho paura Perché prima di combatto Scatta sempre Lo spacco Dell'aria Io sto zitto Perché dovete sentire La colonna sonora Da che non sentirete più Perché io sono Un fucking meme Allora Grazie Fa rispenti del follow Grazie Fa rispenti Ma perché mi follow Tutti quanti Che io porto Queste cose Ma sì Ma siamo in sette Va bene Siamo in sette Benissimo Grazie sette Di avermi seguito In questa nottura No no Sette unicorni Alice Non ho capito Non ho capito Non ho capito Ah ragazzi Ti rinunciati meno Ma che ho fatto Ma scusami Non posso manco parlare Adesso Ma io non ho capito È lei che ha capito male Ora Che Stiamo di evitare anch'io Ma non ho capito No Rido perché Hai capito Tutt'altro E ho visto La tua faccia Mentre te lo dicevo Sì Allora Io farmerò Off live Quindi aspetterete Prima di porti Che porterò Dark Souls 3 Ancora In live Perché a quanto pare Succedono queste cose Quindi aspetterete Per cortesia Abbiate pazienza Tanto Adesso ci sono anche Marco e due piedi Che portano il DLC Quindi vi divertite con loro E Dai lì ci cacciamo Cinque persone Siamo in sette Come spettatori Tranquilla Ma sì Ma sì Ma non mi interessa Cioè Forse per me Sarebbe tutto molto meglio Se foste in uno Tipo Per cui adesso Fondetevi Ragazzi Noi ci vediamo domani Dalle 22 Sì Prima che Alice Dica cazzate Noi ci vediamo domani Dalle 22 A 22 A 22 A 30 Grazie mille a tutti Grazie a Da Furion E Luke Per i raid I raid Che bello C&D Ciba Becca 100 days gone by Farispenti per i follow Un sacco di follow Tantissimi E andiamo da Crosta che sta facendo L'anto showdown Ragazzi Voglio portare l'anto showdown Invece che portare Da Crosta Che non so fare Mi si dice Si dice Il trucco è Il trucco è Alice e Alian Sono Homelander Ragazzi Ah non hanno finito Ah avete finito Allora Raid Sì 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 Grazie di averci seguito E sì Tante care cose Crostantino E mentre scrive Stava Stava ripassando La frase da dire L'ho scritto giusto No Stavo per scrivere Crostantino Come quella volta Che ho scritto Veramente Crostantino E stavo presentando Un canale Che si chiamava Crostantino Però Te lo giuro Però va bene Grazie a Fare i spenti Ten days gone by Becca Chiba Giacedi Da Furions Luke Gondir Da Furions Cosa ho detto Luke Glondir E niente Ciao a tutti Siete bellissimi E buonanotte Ciao 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 Ciao, vai.